Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale Trebis Tiberina, traffico rallentato per un veicolo in fiamme a due chilometri dallo svincolo di Canili in direzione del raccordo Viterbo-Terni. In A1 segnalata una perdita di carico tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo della A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla Grosseto Fano, chiuso svincolo per lavori nel tratto tra Monte San Savino e Montagnano in direzione San Zeno. Sulla statale 223 di Paganico, divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 10 metri tra Bagnaia e San Salvatore a Pilli in entrambe le direzioni. Ovest in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!